Francesco Mattera, artista stuccatore da poco aderente ai nostri progetti, si è formato presso una rinomata azienda tolinese. In quel periodo ha avuto la possibilità di lavorare in varie città italiane acquisendo influenze di ogni stile, lavorando con i più affermati maestri del Piemonte. Specializzandosi con un corso di qualità professionale con certificato di decoratore di ambienti presso la scuola San Carlo di Torino, ha arricchito ulteriormente la sua arte dedicandosi allo studio della sua materia. Ha in seguito partecipato ad approfonditi corsi di studio arrivando ad essere allievo del noto maestro veneziano Mario Fogliata. Il suo stile è molto vicino allo stile di Antonio Gaudì, quindi predilige le curve, l'affinità tra costruzione e natura senza simmetrie e spigoli. Il suo punto forte è la continua ricerca storica delle formule antiche per i materiali, spesso naturali, che sono in realtà già esistenti da centinaia di anni, affermati nella loro epoca ma caduti in disuso con il tempo, a causa dell'avvento dei prodotti chimici e industriali. Francesco è anche abile ceramista, ha notevole destrezza e perizia nelle realizzazioni di pastori che si ispirano all'antica tradizione del presepe napoletano, famoso in tutto il mondo. Con tali immagini è presente nella quarta antologia prodotta nell'ambito del progetto La Nostra Isola.